Un incontro con i parlamentari eletti nell'area vasta di Arezzo Siera e Grosseto per parlare della manovra economica 2019, un confronto fortemente voluto da CNA. Abbiamo ritenuto opportuno proprio in questo momento confrontarci con le persone che comunque abbiamo eletto e che rappresentano questo territorio al governo perché prima che inizi l'iter proprio parlamentare della normativa stessa, ecco, normativa che comunque non soddisfa le aziende artigiane e appunto proprio per questo un confronto con loro per farli rendere consapevoli di quello che è il territorio di Arezzo Siera e Grosseto di quello che è l'importanza delle aziende che comunque le aziende artigiane ricordiamoci sono l'ossatura centrale di questo sistema Italia e in modo particolare anche in queste tre province. Queste tre province contano 95.000 imprese, sono il 23% delle imprese toscane e è doveroso ed opportuno che questo qui i nostri parlamentari se ne rendano conto. Un confronto con loro era doveroso.